Breaking the 4th wall vuol dire rottura della quarta parete è un termine che nasce dal teatro ed è quello spazio che divide il pubblico dagli attori. Una volta che gli attori iniziano a comunicare verso il pubblico avviene questa rottura della fantomatica quarta parete. Io sono Luca. Io sono Tim. Io sono Jimbo. Io sono Josie. E insieme siamo i Breaking the 4th wall, band pop-punk ticinese. Dicevo che la musica è una valvola di sfogo per staccarsi un po' da quello che viene dalla giornata. Magari hai avuto una brutta giornata, suoni un po' e ti passa tutto. È la passione, è il divertimento. We are stuck in time, living on the past, haunted by our goals that we try to escape. Since we look behind, we can always the blind, ignoring there's a path that is waiting for a brand new life. Sì, no, infatti la musica per tutti noi è molto importante. Ci accompagna da un sacco di anni nella nostra vita, nel bene, nel male. E comunque è un po' il sogno di tutti questo che si sta avverando. Ho iniziato a suonare a 15 anni e sono stato anch'io sfortunato con tutte le band in cui sono stato, perché nessuno aveva la serietà di portare avanti un progetto, nonostante l'unica cosa che mi importasse a me era suonare. Quindi uno mi diceva, domani suoniamo? Eh va bene. Però non c'era mai qualcosa di serio, invece con loro ho trovato un impegno che dagli altri non ho trovato. Sì, 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 sì. Io fin da piccolo ho sempre sognato di lavorare nella musica, magari anche come protagonista. Quindi porterò questa passione finché potrò, anche se magari un giorno diventerò un lavoro, a me non dispiacerebbe. E appunto il fatto che siamo diversi secondo me può essere un punto di forza, dà più personalità al gruppo. E appunto il fatto che siamo diversi secondo me può essere un punto di forza. In generale sono veramente molto fiero di tutti loro e di quello che stiamo facendo. e cercheremo di portare avanti.